ciao amici di FLP siamo qua io e Giordi la mia zappetta perché stiamo per annunciare che saranno gli sfidanti degli emergenti del 2016 e vi ricordo che questa è la terza edizione e che dall'edizione passata sono venuti fuori dei nomi veramente validi per cui auguro in bocca al lupo ai partecipanti di quest'anno e ve li nomino qualcuno lo conoscete già qualcun altro è perfettamente sconosciuto anche a me ma vedremo che cosa sapranno darci sei seguito Giordi è un momento importante fermala dammi la zappetta fermo in ordine puramente casuale devo dire abbiamo ABC Pipe, Le Storte, Paolo Chiusa, Don Florian, Gianluca Mosca, Fabrizio Natalizia, Malies Pipe, Antonino Scamu, Andrea Paternò, Giordano Proietti, Ruffinelli Pipe e Gianandrea Ghirri questi sono i 12 sfidanti che si divideranno in tre manche di cui avete già avuto calendario e forme shape e oggi pomeriggio vi manderò un altro video in cui farò il sorteggio per sapere di questi qui chi andrà in quale manche e con quale shape buona giornata e buon sabato ci vediamo più tardi grazie a tutti